Si sono concluse con la premiazione dei vincitori le iniziative della 22esima edizione del premio letterario internazionale L'Aquila Biper intitolata Laudomia Bonanni nella cerimonia finale all'auditorium del Parco. Laura Pugno con i nomi è stata la vincitrice della sezione Poesia Edita, gli altri premiati sono stati Massimo Pamio con Anonimie e Tiziano Abrogiato con Sorvoli, menzione speciale alla memoria per Luciano Russi con Ancora. Molto felice della vittoria di questo premio che per me rappresenta un segno di cambiamento. Il cambiamento che una figura come Laudomia Bonanni apportò sulla scena delle lettere italiane nella prima parte del secolo, il cambiamento di una città come l'Aquila che rinasce e cresce dopo i noti fatti e anche il cambiamento che per me incarna il mio libro, I nomi, che è stato pubblicato nella nave di Teseo perché è un libro che parla della metamorfosi. I vincitori della poesia inedita riservata agli studenti sono stati ex secuo Chiara Andreassi e Benedetta Romanelli del Cotugno. La poesia è vero è dei giovani perché sicuramente grazie a questo premio la poesia è riuscita a metterci come protagonisti dei sentimenti della vita e sicuramente di un nuovo modo di vedere le cose, in modo più sensibile, in modo giovanile, in modo fresco, vivace. Ancora una volta una grandissima qualità, quella espressa dal premio Bonanni che ogni anno si caratterizza per la presenza di un ospite internazionale, in questo caso il poeta spagnolo Alfonso Bresmes. Maledizione di quest'anno che si è agitata la pandemia alle spalle, ha visto anche il ritorno della sezione dedicata ai detenuti, con il rientro nel carcere alle costarelle di Preturo e con gli emozionanti componimenti dei detenuti. La poesia del resto è un mezzo di libertà per guardare al futuro. Per me è un onore essere qui ed è sicuramente un'esperienza molto interessante. La poesia ci fa diventare tutti noi cittadini del mondo, malgrado quello che si sta vivendo in questo momento. La poesia quindi potrebbe essere un strumento, una sorta di salvocondotto che ti permette uscire da quelli che sono la privazione della libertà e in qualche modo potrebbe essere anche un modo di un'ala, una sorta di arto che ti permette viaggiare ed uscire e appunto sovrastare le circostanze che in questo momento si possono vivere. Questa edizione del premio è stata caratterizzata anche dalla borsa di studio La Domia Bonanni per uno studente di Scienze Umane dell'Università Aquilana. La Biper, come ogni edizione, ha finanziato il premio perché crede fortemente nei valori dell'arte, della cultura, della bellezza e della poesia come mezzo per essere umani, per essere liberi in un contesto mondiale purtroppo caratterizzato ancora da guerre e violenze.